Restano invariate ma molto gravi le condizioni del San Benedettese che ieri ha impattato contro un'auto a Porto d'Ascoli, tanto che i medici hanno deciso di non sottoporlo all'operazione. Una bella domenica di sole si è trasformata in un incubo per Giuseppe Olivieri, che ieri in sella alla sua bicicletta stava percorrendo via mare. All'improvviso il violentissimo urto contro lo sportello aperto di un Alfa 147, accostata lungo il ciglio della strada, e l'impatto con il suolo, durissimo ed estremamente violento. Immediato l'arrivo dei soccorritori del 118, ma i sanitari, appena appurate le critiche e condizioni dell'uomo, hanno predisposto il trasferimento immediato presso il nosocomio Torrette di Ancona, grazie ad un'eliambulanza atterrata in riviera poco dopo. Giuseppe Olivieri è in coma da ieri e la sua progno si rimane ancora riservata. Molto conosciuto a Porto d'Ascoli, soprattutto nel quartiere sud della città, Olivieri è titolare di una macelleria in via Torino, lungo la Salaria, e la notizia dell'incidente ha destato stupore e tristezza sia tra chi lo conosceva che tra quei passanti che ieri erano presenti al momento del violento impatto.